Distano più i moli a Rotterdam tra di loro che distano due porti qua tra di loro che sono 7 km. Io dico che nel nostro futuro c'è scritto già che dobbiamo cooperare. Nessun giro di parole da parte dei consoli sloveno a Trieste, Vojko Volk, a Ring e la collaborazione, la strada maestra per il futuro dei porti di Trieste e Capodistria. Portare alla collaborazione due porti. Io per me lo vedo... Guardi che non è una cosa da poco quella che lei dice. In prossimi 5 anni arriveremo a un progresso. Il presidente del Porto diceva che è meglio la competizione perché competizione tra Porto, Capodistria e Trieste li fa crescere. Sì però questa crescita arriva ad un certo punto. Insomma la competizione va bene ma siccome entrambi gli scali stanno raggiungendo in parallelo altissimi standard di rendimento per crescere ancora secondo il console è meglio fare sistema proponendosi come un'area vasta della logistica in grado di fare un ulteriore salto di qualità. Perché sono due porti piccoli no? Ma insieme sono già un porto medio. E sono un porto rilevante perché sono due porti molto avanti tecnologicamente, sono molto affidabili. I riferimenti del console sono i lavori di raddoppio della ferrovia Capodistria di Vaccia, alle nuove infrastrutture triestine dalla piattaforma logistica al futuro molo ottavo piuttosto che all'allungamento del molo settimo che faranno del sistema portuale triestin-sloveno un fiore all'occhiello del settore. Il console infine non dimentica i recenti passaggi storici che hanno dimostrato nei fatti come alzare barriere fisiche vedi i gersi e i confini durante il Covid fra la Venezia Giulia e il territorio sloveno non solo sono operazioni ormai antistoriche ma indigeribili per chi vive a cavallo del confine da ambo i lati. La comparsa di quei sassi ha ferito tutti e due. No, ha completamente ragione. Io mi sono arrabbiato così tanto che... Il console si è arrabbiato. Sì, si sono arrabbiato anche con qualche sindaco e qualche politico. E doveva venire Covid per farci capire che... Quella divisione non c'è più. Che non c'è più. Che 10.000 persone, 10.000, ogni giorno attraversa la frontiera per andare al lavoro, per portare figli alla scuola, per comprare benzina. L'abbiamo toccato una cosa che fa vivere la gente, che non puoi più pretendere di portare via.